A cui è il sindaco, a cui ho aggiunto il buon lavoro a tutti i miei consiglieri. Mi sono augurato di essere ritornato in questa assise con grande forza, ho fatto ci siamo riusciti e nello stesso tempo ovviamente tutti ci aspettavano, parlo da un certo sinistra, una risoluzione diversa di questo Consiglio Comunale, ma questo è dato di fatto che così andremo avanti. Io faccio gli occupi a Luigi Miranda, la mia posizione politica di lavoro di libertà, di essere rosa. Devo diamo un grande in bocca al lupo lavoro. Nel contempo saremo in una posizione dura, attenta, mettele alla città. Non faremo sicuramente passare nulla che non ci capsa, nulla che non sia di illecito. Nel senso di distruzione simile, che useremo a posto di cambio, ma nel momento in cui c'è qualcosa che non va, avrete la posizione che farà con il suo lavoro. Grazie.